Di Bala in panchina e Roma-Sassuolo, il motivo, cosa è successo? Niente quinta partita di fila dal primo minuto per Paolo Di Bala. Sorprendendo un po' tutti. Iossi e Mourinho ha lasciato fuori il numero, 21, della Roma. Paolo, nelle ultime settimane. Aveva giocato sempre e Mourinho ha voluto preservarlo perché giovedì ci sarà la Real Sociedad in trasferta e domenica prossima il darby contro la Lazio. Se ci sarà bisogno Paolo entrerà nel secondo tempo, altrimenti Foti, con Mourinho squalificato, lo farà ripossare per averlo fresco in coppa. Virgola.